La notizia sarà fatta, la famiglia è qui per questo e faremo di tutto per far capire che mio nonno non è morto per Covid ma è morto per la mala sanità che ha subito. Abbiamo raccolto la denuncia di Francesca Cristillo in collegamento con gli studi di TV City. Suo nonno, 86 anni, è morto di Covid domenica sera all'ospedale di Caserta senza riuscire a trovare adeguata assistenza sanitaria. Mio nonno non aveva patologie, non soffriva di demenza senile, di un inizio di demenza senile però è sempre sotto controllo e curata. Mio nonno il 16 di ottobre ha effettuato un vaccino anti-influenzale e a seguito del vaccino ha cominciato ad avere un po' di raffreddore, cominciava a non mangiare bene, a non dormire. Abbiamo effettuato un tampone antigienico a mio nonno per l'immediatezza dei risultati perché doveva essere ricoverato. Dal tampone antigienico mio nonno è risultato negativo. Domenica, primo novembre, chiamiamo la prima ambulanza. Dalla prima ambulanza ci dice che mio nonno sta bene, gli inserisce una flebbo e lo lasciano a casa. Il lunedì 2 novembre portiamo mio nonno in clinica e solo allora la clinica ci dice che il tampone che aveva fatto mio nonno non era attendibile, doveva effettuare un tampone molecolare e così è stato fatto. Infatti poi martedì mio nonno è risultato positivo. C'è chi dicevano che non c'erano posti, chi diceva che mio nonno aveva una saturazione di 194, praticamente una persona con una persona sana. Ci dicevano che il nostro saturimetro domestico non era funzionante, non era buono, però su di noi funzionava e su di mio nonno non funzionava. Una testimonianza che evidenzia le carenze e le falle nella gestione dell'emergenza. Malati e familiari sono allo sbando, spesso costretti ad una peregrinazio tra ospedali, ore di attese e ritardi per un ricovero che possono inevitabilmente determinare epiloghi drammatici. Se mio nonno fosse stato ricoverato al primo intervento dell'ambulanza e magari se gli fosse stata misurata la saturazione senza la bombola di ossigeno attaccata, cosa che non dovevo sapere io ma dovevano sapere il personale dell'ambulanza, magari adesso mio nonno sarebbe qui con noi invece che al cimitero. Tanti gli interrogativi e la voglia di far chiarezza sull'accaduto. Mio nonno deve avere giustizia perché mio nonno aveva 86 anni ma mio nonno aveva una salute di ferro. Fino alla settimana prima aveva effettuato elettrocardiogramma, era seguito da neurologo, aveva fatto le analisi del sangue, uscite migliori delle mie. Quindi mio nonno se fosse stato soccorso tempestivamente da personale diciamo competente e merito magari ora come ora sarebbe qui. Grazie a tutti.